Finalmente a Bruxelles, oggi è un giorno importante per la nostra associazione, per il Museo Impresa. È la prima volta che debuttiamo in Europa con un progetto importante, il nostro film, che racchiude lo spirito e l'emozione che anima i nostri musei, i nostri archivi, esempio concreto di cultura d'impresa e dei valori che animano l'impresa, il legame col territorio, l'innovazione, la ricerca, il Made in Italy. Il film è un bel prodotto, noi ne siamo molto orgogliosi e siamo convinti che il Ben ci possa rappresentare in questa sede. L'Europa è la civiltà e la patria delle reti e noi ci poniamo come una rete di imprese, una rete di imprese che credono nei valori della responsabilità sociale, della cultura e la vogliono condividere con altri. Speriamo di trovare dei partner importanti che ci aiutino in questo nostro lavoro, altre reti di musei, di archivi di imprese o anche reti che si parlino di queste tematiche in modo tale che ci possiamo arricchire sia culturalmente sia da un punto di vista di progettualità e di nuove iniziative. È stata una grande emozione avere qui a Bruxelles, nel cuore del Parlamento europeo, questa bellissima giornata, serata dedicata a musei di imprese. È una storia da raccontare in Italia e in Europa perché credo che sia veramente parte integrante del paesaggio culturale, sociale ed economico del nostro paese che ha una biodiversità culturale e imprenditoriale straordinaria. Nel film abbiamo cercato proprio attraverso una ricerca negli archivi di riportare alla luce questi frammenti che sono anche storia del linguaggio cinematografico e non solo storia dell'impresa proprio per ricostruire una trama che ci sembra importante non solo per l'Italia ma soprattutto per l'Europa.